Mi candido sindaco di Taranto con il movimento Taranto senza Ilva, trasversalmente ai partiti né centrodestra né centrosinistra né Movimento 5 Stelle. Le mie battaglie da vent'anni a questa parte, da giornalista per la difesa dell'ambiente, per migliorare la qualità della vita, per eliminare la invivibilità urbana. Eh sì, parliamo proprio oggi di invivibilità urbana, siamo in via dei Amicis al quartiere Tamburi, un quartiere martoriato in tutti i sensi. E la cosa che mi fa rabbia è sentire le favole, le chiacchiere che ha raccontato l'ex sindaco Melucci. Lui parla di rinascita, io invece parlo di degrado assoluto, di incapacità amministrativa, di ipocrisia nei confronti dei cittadini. Siamo in via dei Amicis, un'arteria importante, guardate, è un percorso di guerra, è letteralmente bombardata. Guardate le buche, strade che non vengono rifatte, chiaramente basta un po' d'acqua e si aprono veri e propri crateri. La situazione diventa davvero ancora più pericolosa considerando che qui passano i pullman, gli autobus e quindi passando gli autobus ovviamente esercitano come dire un maggior peso e chiaramente un manto stradale già disastrato risente ancora di più. Basta andare, basta fare qualche metro, stiamo facendo insieme questo tour nel degrado, toppe, toppe, rappezzi, toppe, rappezzi perché non si è mai avuta l'idea di fare una strada come si deve. E guardate lì, un altro cratere che appunto si è aperto, un po' di pioggia, non stiamo parlando delle piogge monsoniche. Guardate lì, ecco, lì sta transitando, sta passando una macchina che appunto affonda, ecco lo vedete, in presa diretta. Qui sembra che sia caduta una bomba. Ecco, questa è la rinascita cittadini di Taranto, abitanti del quartiere Tamburi. Questa è la rinascita che l'ex sindaco Melucci dice di aver realizzato. Questa è la rinascita. È una situazione vergognosa. Gli abitanti del quartiere Tamburi non sono cittadini di serie B o di serie C. Ecco, i crateri. E allora, noi stiamo facendo il giro di tutta la città, quartiere per quartiere, ma le periferie sono disastrate. Per questo io chiedo il voto al sottoscritto come sindaco e ai consiglieri della mia lista Taranto senza Ilva. Vogliamo davvero rivoltare Taranto come un calzino. Questa è la verità. I cittadini pagano le tasse e hanno diritto ai servizi, non a questo scempio cui l'amministrazione Melucci ha contribuito. C'è una Taranto migliore. Vogliamo realizzarla insieme.